Manco da Agrigento esattamente da 21 anni e da 21 anni ogni estate torno puntualmente ad Agrigento, torno per gli affetti più cari, torno anche per gli amici e chi mi conosce mi crederà, torno anche per un appuntamento immancabile, la cosiddetta festa dei VIP mancati, che ha organizzato quest'uomo che è uno dei miei più cari amici, Lillo Rizzuto, in arte Philippe Leroy. Vogliamo dire in due parole, Lillo, in che cosa consiste la festa dei VIP mancati? Ma io forse le mie intenzioni da ragazzo volevo fare l'attore, non ci sono riuscito e ho fatto il poliziotto penitenziario. Comunque è andato allo stesso bene e sicuramente sarà un modo per incontrarci tutti, anche con te, con alcuni ragazzi che sono fuori, un modo per divertirci, fare un po' di comicità, raccontare tutte le nostre storie e divertirci. Mi dispiace che non posso invitare a tutti perché lo spazio... E' quello che è. Il prossimo anno forse lo facciamo all'esseneto, così almeno abbiamo la possibilità di invitare a tutti. Comunque l'appuntamento è martedì alle ore 21. A Villa Abusiva Fofoneggia, sotto San Calogero Bianco. Sotto San Calogero Bianco. Questo è anche un modo per riconciliarsi con gli amici. Grazie a In Tre Minuti per averci ospitato.